È ufficiale, dopo un ulteriore sopralluogo avvenuto ieri, la notizia che già da qualche giorno trapilava fra gli addetti a lavori è stata confermata. Il big match di eccellenza fra Campobasso e Isernia si giocherà allo stadio Romagnoli di Selvapiana. Quindi i lupi tornano finalmente a casa dopo oltre cinque mesi, dove è davvero successo di tutto, dalla salvezza anticipata in Serie C alla sfida con Isernia nel campionato regionale di eccellenza. Non è stato affatto semplice per il Campobasso 19-19 prendere le chiavi dell'impianto di Selvapiana, tanti cavilli che hanno rallentato le tempistiche e costretto la compagine Rosso-Blu a disputare le precedenti partite fuori dal capoluogo regionale. Certo non poteva esserci sfida migliore per rientrare a casa in un torneo dove a giocarsi la promozione saranno al massimo in tre, ovvero Campobasso, Isernia in primis, ma senza escludere l'Aurora Alto Casertano. Il costo dei biglietti è stato fissato a 5 euro e nelle prossime ore saranno comunicati i canali di acquisto e gli accessi consentiti alla struttura. Lo stadio è ancora un cantiere, i lavori sono andati avanti ma non sono stati ancora completati. Pochi i giorni montati, ancora da sistemare i settori che al termine dei lavori raggiungeranno la capienza di 14.000 posti. E poi c'è il manto erboso che ha patito la mancata manutenzione di questi lunghi cinque mesi. Dunque il big match tanto atteso sabato 15 ottobre alle 15 nella cornice più bella dello stadio Romagnoli.